Palmeri miserabile sciacallaggio sull'Inter da giornali che puntano a due copie e usano un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video non ci sta tan credone Palmeri e non le manda a dire siete dei miserabili sciacali o voi che vi azzardate a scrivere qualcosa che non va bene sulla squadra di città laggiù perché sappiamo che il volere popolare e soprattutto il popolino deve essere sempre aggiornato con le situazioni così come fa la gazzetta dello sport e quando c'è da trattare l'argomento Juventus curva e in drangheta e allora le prime pagine ma anche le seconde e le terze sono tutte dedicate alla squadra di Torino quando invece si parla della stessa situazione però con la curva a nord dell'Inter con il vicepresidente molto probabilmente il presidente sicuramente l'allenatore e i calciatori coinvolti con atteggiamenti e diciamo si accompagnavano con personaggi che poi erano gli stessi che si infiltravano nella curva che provenivano dall'andrangheta il racconto non deve essere fatto la gazzetta dello sport ci spiega come funzionano le macchine elettriche quale potrebbe essere il problema di queste auto per quel che riguarda le batterie perché sappiamo che ormai per quel che riguarda lo sport e il calcio soprattutto uno dei problemi maggiori è proprio stecca di batterie che non si trovano per le macchine e i ragazzi non sanno come venire ad allenarsi e si sono ancora superati due giorni fa facendo un articolo sul melograno perché sappiamo che è importante per la dieta del calciatore dello sportivo il melograno allora la gazzetta dello sport piuttosto che parlare di come viene smentito viola il procuratore capo di milano di fede nerazzurra da quando aveva cinque anni che urla subito a fermi tutti le società soprattutto quella di città laggiù e parte l'esa perché hanno subito delle pressioni enormi e delle minacce poi parla in zaghi parla javier zanetti dice noi minacce non abbiamo mai subito abbiamo sempre lavorato di comune accordo e quando loro avevano delle richieste noi le accontentavamo questo sarebbe un reato teoricamente ma attenzione voi sciacalli non vi dovete permettere perché palmeri non ve la manda a dire allora andiamo a leggere che cosa racconta e poi vediamo anche che cosa raccontava per quel che riguarda un'altra squadra perché sappiamo che i giornali quando parlano della juventus parlano per raccontarti il giusto tutte le malefatte che la squadra di agnelli fa adesso di elkan quando invece parla dell'inter è solo perché devono vendere qualche giornale in più devono fare qualche visualizzazione in più e sono dei miserabili sciacalli metti un bel like per supportare questo video ormai non ce la fanno più sono arrivati al limite anche perché a via di arrampicarsi sugli specchi dopo un po scivoli non riesce arrivare fino alla meta stanno scivolando uno dopo l'altro dai pm dai magistrati i giudici i medi e giornalisti soprattutto il presidente della squadra di città laggiù che andava a raccontare così come tutti i pignorati noi siamo la società pulita che vince senza rubare diciamo che ruba senza essere controllata sarebbe la cosa più giusta iscriviti al canale se non l'hai fatto attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato ogni volta uscirà un nuovo contenuto mi raccomando condividiamo condividiamo a più non posso perché dobbiamo far sapere che proprio tancredoni parlava così palmeri sull'inchiesta juve un conto è abbellire i conti un altro è fondarli sulle plusvalenze neanche per andare tanto lontano proprio qualcosa che è successo qualche giorno fa ma in questo caso non si è sciacalli e miserabili lì no si è informatori del sistema allora andiamo a vedere come informa perché che cosa è successo non ce la fa proprio l'inchiesta ultras pesantissima dal punto di vista penale ma per gli arrestati è poca roba dal punto di vista sportivo anche se pecoraro ci ha detto che la juventus all'epoca nonostante che ha denunciato aveva violato addirittura l'articolo 4 slealtà sportiva il presidente era colpevole del fatto addirittura di non aver vigilato bene e quindi c'era la slealtà sportiva in questo caso invece poco per quel che riguarda quello che è messo fino adesso poco ci racconta finora non può certo configurarsi chissà quale violazione per l'inter ma i soliti media cercano di alimentare i bassi istinti degli anti interisti paventando chissà quale sanzione a carico della società nerazzurra che poi non si verificano alimentando le accuse di complottismo a non perché chi è che sta seguendo le indagini è puramente è beatamente raccontandolo pure in giro un ultra dell'inter tutti senza toglierne nemmeno uno partire da mattarella a finire fino a rocchi quindi dalla politica all'arbitraggio passando per l'andrangheta e la magistratura tutti sono tifosi per la squadra di città laggiù ma se non vengono puniti è perché c'è un problema di complottismo siamo tutti complottisti anche quelli che ti dicevano aspetta prima di farti che poi magari succede qualcosa non lo sai aspetta un po è ma tu sei un complottista e siamo tutti complottisti anche di palmeri nel suo editoriale per sport italia commenta così la situazione mediatica ad oggi dice lui è davvero difficile trovare qualcosa di contestabile che non sia oltre il fatto che un'entità o dei protagonisti così in vista debbano abbozzare ascoltando senza doversi compromettere insomma facendo buon viso a cattivo gioco ma senza commettere alcun che quando camminano avendo a lato realtà potenzialmente criminali si è capito un cazzo non si è capito niente caro tancredi palmeri si sentiva solo sentiva solo questo non si è capito niente di quello che ha scritto io ve lo metto qua ve lo rileggete i cui contatti non non a caso ben ha fatto la società ribadire sono stati sistematicamente concordati mettendo a conoscenza le autorità passaggio questo assolutamente fondamentale peccato che le autorità hanno detto che l'inter ha portato confusione con le sue parole da parte degli addetti ai lavori che sono stati ascoltati proprio dalla digos anche perché avrebbero raccontato il falso ma andiamo a vedere perché a un certo punto tancredi palmeri decide di ispirarsi a più non posso per fare questo articolo allora si guarda allo specchio e si chiede scrivi che cosa vedi riflesso e lui scrive questo è lo stato del latte a oggi assolutamente in divenire eccolo qua così lo vedete non si può però nel frattempo non registrare il miserabile sciacallaggio sul nome dell'inter in particolare sul nome di simone enzaghi è sciacallaggio quando si parlava della juventus si parlava di agnelli le prime pagine agnelli e mafioso in questo caso è sciacallaggio dice lui al di là del banale anche comprensibile cosa rischia l'inter che non rischiano a sé proprio la vergognosa caccia alle streghe in scena non casualmente da parte di elementi che è qui ha guardato fisso lo specchio e ha avuto l'ispirazione che gli elementi o media che campano di populismo d'attacco per racimolare qualche attenzione proveniente da bassi istinti dei tifosi di riferimento perché l'odio aiuta a vendere due lire di copie in più o a darsi un minimo di riconoscibilità quando altrimenti sarebbe impossibile costruirsela facendo un lavoro basato su una professionalità che non si possiede guardandosi allo specchio è riuscito a partorire questo fantastico articolo che finora racconta praticamente lui e tutti quelli che hanno fino ad oggi raccontato quello che succedeva da parte della juventus o qualsiasi cosa facesse la juventus ricordiamo anche l'esame di suarez che addirittura si è aperta una inchiesta perché dal racconto dal racconto proprio di questi soggetti la juventus era colpevole ma lì non c'era sciacallaggio lì non c'erano i miserabili i miserabili arrivano adesso come ti permetti tu di parlare di filippo inzaghi scusatemi di simone inzaghi ma come ti permetti di parlare di simone inzaghi è l'allenatore migliore del mondo è la persona più pulita al mondo è uno che si mette sempre a disposizione ti serve qualcosa lo trovi fai una chiamata ti risponde non mette giù hai bisogno di qualcosa parte si informa chiede si sbatte un amico ti servono biglietti 200 500 1000 1500 noi li abbiamo e tu un personaggio del genere solo perché vabbè li ha dati a quelli dell'andrangheta solo perché quello che telefonava era dell'andrangheta allora sei come spalletti allora tu veramente non meriti di parlare allora tu sei anti interista perché dai un personaggio così come ti permetti a dire che avrebbe commesso un illecito magari anche un reato ma come ti permetti qui non c'è mica Agnelli non c'è mica Ronaldo che andava benissimo fino a quando era real madrid arriva la juventus diventa immediatamente uno stupratore però lì non si faceva sciacallaggio lì si raccontava la verità non come fate voi che vi permettete zanetti inzaghi barella ceranoglu non si fa maledetti sciacalli eh maledetti miserabili sciacalli perché invece quando si parlava della juventus nel corso di radiogola su kiss kiss napoli è intervenuto il giornalista tancri di palmieri l'inchiesta riguardante la juve potrebbe essere devastante chiedono se è partita da un'inchiesta così importante dice lui è sicuramente una roba su cui investigare bene scusate poi il giorno dopo in molti dicono sì ma sono cose che fanno tutti e se puniscono la juventus devono punire tutti allora crolla il calcio però dice lui un conto è abbellire un pochettino la situazione dei conti un altro è se il tuo budget si fonda su delle plusvalenze arrotondate quindi con 200 300 milioni insiste ancora lui in due anni la proporzione è un po' differente molti dicono che la juve essendo in borsa è più controllata rispetto ad altre squadre voglio però ricordare che essendo in borsa la juve ha preso dei soldi da altre persone per inversirli quindi la situazione è leggermente più grave vediamo anche se c'è dell'altro calmati perché potrebbe esserci dell'altro perché dall'informativa si parla anche di fatturazioni false quindi aspetta aspettiamo cioè ho informazioni che c'è dell'altra me però lì non è sciacallaggio lì non sei miserabile caro mio sei solo al soldo del sistema e noi gioventini non ce la prendiamo con te caro tancredi palmeri perché non hai la spina dorsale di poter scrivere quello che succede perché molto probabilmente anche tu al di là del tifo hai delle pressioni da parte di qualcuno per poter e dover sempre scrivere determinate cose che vanno sempre a favore della tua squadra e che vanno sempre alla squadra di torino perché questo ormai l'abbiamo capito però questo serve per farvi capire chi è intanto il personaggio tancredone palmeri che dà dei miserabili a tutti quelli che non raccontano quello che vuole sentirsi dire lui e dà degli sciacalli a tutti quelli che in questo momento riportano le notizie cioè l'intercettazione di inzaghi piuttosto che quella di zanetti piuttosto che quella di ferdico dove diceva che la zanetti che o non so se la ferdico chi era che la zanetti che praticamente avvisava che la curva era sotto controllo lì l'hai capito o te la devo spiegare